Anche Agropoli ha il suo piccolo mose. E' stata completata, infatti, nelle scorse ore, nei pressi del Lido Azzurro, l'installazione della barriera antialghe e meduse. Avrà lo scopo di evitare, in particolare, lo spiaggiamento della Posidonia, fenomeno che si è accentuato nella zona dopo la messa in opera della scogliera antierosione. La barriera, installata ad opera della ditta Submania di Agropoli, è lunga 100 metri e copre la distanza tra i due pennelli che costituiscono l'imboccatura della nuova scogliera. E' di altezza variabile, tra 3 e 3,5 metri, in base al fondale che è presente in loco. Si tratta di una rete in PVC anti-impiglio, composta da 5 barriere da 20 metri cada una. La ditta è impiegato, tra predisposizione e montaggio, 5 giorni. L'installazione ha previsto di lasciare libero lo spazio di 3-4 metri, sia a destra che a sinistra, in modo da favorire il ricircolo delle acque. Si tratta di ingressi appositamente lasciati, da utilizzare anche per il passaggio di mezzi di soccorso per effettuare manovre di salvataggio. Lo scopo principale della barriera è contrastare l'accumulo di alghe, che a causa delle correnti che si formano a seguito della predisposizione della barriera anti-erosione, sono in quantità ingenti. Una volta accumulatesi sull'arenile, finiscono per emanare cattivi odori, che pregiudicano l'immagine della cittadina cilentana. E questo è quanto accade proprio sulla riva sinistra della foce del Testene da diversi mesi. Qui i cumuli di alghe e impotrefazione creano non pochi disagi, sia nella zona residenziale del Lido Azzurro che anche nelle aree limitrofe. Con la barriera anti-alghe, l'amministrazione mira ad evitare che il problema possa ripresentarsi ancora, anche in virtù del fatto che le procedure per la loro eliminazione risultano alquanto lunghe e farraginose, oltre che costose. L'amministrazione inoltre ha predisposto un progetto di un sito di stoccaggio delle alghe. L'idea è di farle diventare risorsa anziché un fastidioso problema.